Ciao a tutti, sono felicissima di registrare questo video e di condividere con voi la mia gioia. Si tratta appunto, voglio parlarvi dei campionati europei di taekwondo che si sono svolti in Scozia dal 22 al 25 ottobre, però io sono rimasta un po' di più, sono stata dal 20 al 27 ottobre, è stata un'esperienza indimenticabile che io conserverò sempre dentro il cuore. Ho partecipato sia come riserva per la squadra femminile di forme a squadra appunto, signores, e siamo arrivate seconde, è stato bellissimo. Emozioni uniche. E questa è la medaglia. Non è meravigliosa? Guardate che bella. E qua c'è scritto tutto. Mentre per la categoria delle forme individuali, quindi l'avrete visto anche negli altri miei video riguardanti appunto le gare, insomma le classiche, le gare di forme che io faccio solitamente, e in quella purtroppo ho perso al secondo turno. Quindi il primo turno l'ho passato e ho vinto dopo uno spareggio molto sofferto contro una ragazza finlandese. Al secondo turno invece ho dovuto sfidare la campionessa mondiale in carica norvegese. E ho perso contro di lei, però vi giuro che mi sono sentita onorata, onorata di averla sfidata. In quei momenti, quando sei dentro il quadrato, senti dentro di te tantissime emozioni contrastanti che ti fanno sentire viva. Per me è stato bellissimo partecipare a questa gara internazionale così importante per me. Non riesco neanche a descrivere quello che ho provato mentre ero lì in gioco, in sfida, contro delle ragazze preparatissime e bravissime. Io ho ancora tantissimo da lavorare, però sono veramente determinata e voglio arrivare in alto. Voglio dare sempre sempre il massimo durante queste gare, sia per me stessa che per le persone, i miei maestri che mi seguono sempre, tutte le persone che credono in me. Comunque adesso non mi voglio dilungare più di tanto. Dopo questa introduzione, ovviamente, seguirà il video di tutta la gara che ho fatto. Spero che vi possa piacere e prima della gara, ovviamente, vi lascerò qualche spezzone della strada che abbiamo fatto per arrivare al palazzetto. Quindi io adesso vi mando un grossissimissimo bacione e ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie. 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 iskostas Konstantin Loniński, Polish Litman Association. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.